Bene e male nel centro? Non ho giocato neanche un altro difensore? Porco Dio! Ma come cazzo è? Solo passina, fate corte! Madonna la vezzi che bello! Che tristezza! Noi giocammo in casa fuori! Ma noi chi c'ha un pochino a Tiago Silva e... Non è entrato qua, è vero? Non ha fatto piano male a niente! Vabbè abbiamo perso! Abbiamo perso! E' porco zio! Ma non male! Comunque ha fatto col Pazzini la vezzi almeno! Eh ci ho capito ma... Com'è che hanno giocato Chiellini? Ma porca madonna! Che sfido! Vabbè dai! Ma non c'è il rischio di pareggiare eh! Quanti giocatori come... Diciamo il terza punta di Michele! Diciamo il terza punta di Michele! Come fai già? Ah beh perché ha giocato ieri! Il numero... Diciamo il terza punta di Michele!